Salve a tutti i piccoli e grandi lettori, la presentazione di oggi dell'edizione Osborne è Fingerprint Activities. Funziona così. Questo praticamente puoi disegnare con le dita. Qua è stato usato infatti, vedete? Qui c'è stata fatta la faccina. Qua praticamente trovate tutti i colori e con le dita fate il disegno delle faccine. Ecco qua, ci sono le istruzioni perché comunque va usato in un certo modo, il dito va messo in un certo modo, sennò è nella forma diversa. Qua vedete qui c'è il trenino. Questa è stata colorata da bambini. Qua è stato fatto per esempio tutto il coso del pesce. Questa è Fingerprint Activities. Poi abbiamo invece questo qua degli animali che è con gli stampini. Vedete qua ci sono gli stampini. Ecco qua. Funziona uguale, sempre con gli stampini. Qua c'è un animale. Questa è una capretta. Forse le giraffe. Qua c'è la mantine religiosa. Il tigrottino alla lontra. Dovete fare i pallini della tigre. Il cangura. Eccetera eccetera. C'è una volta. L'elicottero. Il leone. Ecco qua. Questa è la chimera del leone. Con lo stampino, questo qua, a mezzalina. E sono finiti. Spero che vi sia piaciuta questa presentazione. Se sì, mettete un like e condividete. Se volete, potete seguirmi sul canale YouTube, su Facebook, Instagram, trovate i link in descrizione. Se siete interessati al libro, potete contattarmi. Grazie. Buona lettura e la piccola mondo dei libri. Grazie a tutti.